Un dibattito pubblico per parlare dell'incidenza delle malattie tumorali sul territorio e la richiesta avanzata alla sindaca da parte del Comitato Civico e Ambientale guidato da Cosimo Panico. Alla base dell'istanza il fatto che è dimostrata da diversi studi scientifici la correlazione tra il degrado ambientale e l'insorgenza nell'uomo della maggior parte delle patologie, da quelle respiratorie fino alle neoplasie. L'incontro, secondo quanto si legge nella nota del Comitato, dovrebbe prevedere anche l'acquisizione di dati oggettivi sul numero e la tipologia delle malattie che colpiscono a tutt'oggi la popolazione locale e la comparazione con altre realtà simili che abbiano o meno la medesima impronta ambientale.